Il lago di Baraz, unico lago naturale in Sardegna, è tutta l'area circostante con le dune di Portoferro e la Pineta, riconosciuta zona speciale di conservazione e un sistema delicatissimo da far conoscere e valorizzare, ma anche da salvaguardare. Lo fa dal 2000 il CEAS, che svolge attività educative di sensibilizzazione per la conoscenza di questo luogo incontaminato. 24 anni senza soluzione di continuità rappresentano un traguardo importante. Offrendo delle attività alle scolaresche del comune di Sassari. Tra l'altro il centro educazione ambientale Lago di Baraz fa parte della rete INFEAS della regione Sardegna. Questo permette anche di avere quasi ogni anno finanziamenti per progetti che vengono sempre proposti alle scuole o alla cittadinanza. Dal Baraz a metà tra Alghero e Sassari partono diversi sentieri attorno al lago, verso Portoferro o l'area demaniale delle prigionette, apprezzati e frequentati soprattutto da turisti stranieri e in particolare francesi e tedeschi. Chi viene? Non viene così in maniera generica fare la passeggiata, ma viene a cercare qualcosa di particolare, visto che questo è l'unico lago naturale della Sardegna.